OVO SPRAY Per spruzzare l'uovo sui dolci, accendete la macchina. Sganciate la pistola erogatrice. Immergete il tubo di aspirazione nel contenitore del prodotto da erogare, uovo intero pastorizzato. Quindi, regolate i due manometri di pressione relativi ad aria e prodotto. La regolazione separata di aria e prodotto consente di aumentare o diminuire la nebulizzazione. Una volta impostata la macchina, procedete alla doratura dei cornetti. Per spruzzare l'uovo sui dolci. Per spruzzare l'uovo sui dolci.